Mi interesserebbe sapere come sceglieranno i candidati all'Assemblea regionale siciliana ai 5 Stelle e se useranno anche in quel caso la piattaforma Russo, che di recente è stata diciamo così rivelata come abbastanza un collaboro. Polito, le do una notizia in anteprima, ma qui la sanno tutti, li abbiamo già scelti i candidati all'Assemblea regionale, prima del Presidente pure. Abbiamo già fatto tutto, abbiamo fatto la lista, abbiamo fatto il Presidente, abbiamo fatto il programma, per noi possiamo andare a votare anche domani, il problema è che mancano gli avversari, impegnatevi magari a raccomandarvi con loro, che facciano anche loro il loro candidato Presidente, vi lancio un appello a voi insomma.